Corrosé, 3.020 metri sul livello del mare, spartiacque ideale tra la Val di Reims. Con il Monte Bianco, visibile in questo momento, la Valsa Varanche, con la Grivola e tutto il gruppo del Gran Paradiso, visibile in questo momento, il Colle del Nivolè la separa dalla Valle Orco, visibile in questo momento. Eccoci di nuovo al Corrosé.